chiese pure la spada fighissima, aia, c'è puzza di shop qua c'è d'ore di shop, i re ma c'è un bundle gratis? aspetta ora fanno andare sul plus, quattro settimane per riscattare questo devi farlo tramite il computer io non ho il computer allora devo entrare sulla Activision no, PlayStation Store scrivi PSN, PSN scrivi PlayStation Store da computer poi accedi accedi metti la tua cosa metto il gas come la macchina e studio matematica verifica in due passaggi, quattro settimane ho l'accesso sempre quindi non devo verificare mai ho ancora bugato poi scrivo ultima uscita se vai sul plus fai sulla sezione del plus c'è vabbè vengono gli sconti esclusivi scendi ma figa non faccio prima scrivere code no no fai uno degli ultimi cazzo cazzo i pagine sono ma che pagine è? inizio allora e devi schicciare su PlayStation Plus però tu sei la pagina della PlayStation Store iniziale devi schicciare su PlayStation Plus e shot ah World pacchetto combattimento subito lì che cazzo è? c'ha il cutter come come coltello oh signor che lavora perfetto sta bene buona presa probabilmente dovrà riavviare il gioco voglio vederlo il cutter come confermato come arma oddio vamo spar la playa con la prata nella goccia che c'è nemmeno? se una cosa è troppo tale mi farà una partita alle non ci credo non ci credo non ci credo armaria pistola lente giallo non ci credo il cutter non ci credo si si potrà giocare come uno il muratore dice non c'entra un cazzo con i muratori questa qua c'è una zanzara c'è una zanzara ma va bene ma spada a platta con la platta fai attenzione preparati sei il prossimo vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e per te è finito ballo fuori o conquista l'obiettivo ehi l'hai fatto a pezzi preparati a rientrare in azione e per qualcuno non è che è fatto benissimo si è fatto stra bene ma anche il taglierino guarda che vabbè che non ci avrà messo tanto a farlo perché alla fine è un taglierino un pezzo di plastica come una lama però ci è fatto bene è fatto per essere gratis già che è gratis guarda anche come parla non l'ho sentito no 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 e noi andiamo UAPI NEMICO IN VOLO UAPI NEMICO IN VOLO Gioveti venenti sabato Non è giovenile Ah comunque sabato aveva una proposta da farvi A te e all'amico del tipo riguardo compere ho comunque anche un giro in centri commerciali e aperitivo che non può mancare cassa di scorte marcata recuperiamola anche perdendo terreno buon ballecco ciao frate se vediamo domani a luna gang addio ciao Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.